Allargare la fascia dei portatori di interesse, acquisire nuove idee e nuove esperienze per essere più incisivi con l'amministrazione che verrà. E questo è l'obiettivo dell'incontro serale promosso dall'associazione Sulmona Facentro che chiama raccolta commercianti, residenti e chiunque voglia investire sul centro storico di Sulmona. Tutto in una notte per raccogliere proposte e discutere sul da farsi con l'unico obiettivo di darsi una mossa perché i tempi che corrono non sono certo facili. L'anno scorso abbiamo messo in moto alcuni meccanismi che hanno avuto il loro risultato ma non sono chiaramente decisivi per dare una scossa a questo mercato che langue e è un degrado che la città avverte, spiega Franco Ruggeri, componente dell'associazione. Questa sera si cerca nuova propulsione per non farsi trovare impreparati quando fra qualche mese si tornerà a discutere di riqualificazione del centro storico con gli amministratori che verranno. Quello che vogliamo ottenere stasera è allargare la nostra fascia, acquisire nuove esperienze, nuove idee, nuova forza, nuova propulsione per essere ancora più incisivi nel rapporto con l'amministrazione che si è andata. Tocca a Ruggeri specificare che l'associazione non è esclusivamente commerciale ma raggruppa tutti gli interessi esistenti in centro storico e in tal senso è aperta a tutti. È un'associazione non esclusivamente commerciale ma è un'associazione che raggruppa tutti gli interessi esistenti nel centro storico per cui è aperta a chiunque abbia interesse, dalle attività produttive ai professionisti, agli operatori in genere e comunque anche ai proprietari della casa. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20 e 30 nella Sere del Sestiere di Porta Bonomini in via Ercole Ciofano.